Un cuore verde di Brescia che desidera ripartire dopo un lungo infarto. Parco Gallo e la sua cascina lanciano per gennaio e febbraio un vero turbine di iniziative per stanare il bresciano dall'etargo invernale. Si partirà il 6 gennaio con la festa della Befana che non porterà via tutte le altre ma invece farà da antipasto. Appuntamenti infatti anche per il 14 febbraio con la festa degli innamorati e il 15 febbraio con la festa del Casoncio. Da non perdere anche il 27 febbraio, il 4, l'8 e il 27 marzo con le feste di carnevale. Ma non è finita qui perché dall'11 gennaio la cascina proporrà tutti i giorni aperitivi animati con musica ed intrattenimento mentre dal 12 gennaio le domeniche saranno popolate dalle bancarelle ogni fine settimana dedicate di volta in volta all'agroalimentare, al mercato del vintage e del riutilizzo oppure all'interessante iniziativa delle bancarelle del tempo dove non si esporranno merci ma le proprie capacità e le proprie doti artistiche. Obiettivo dichiarato? Ridare vita ad uno spazio ormai semi dimenticato. Un gruppo di associazioni collabora con Cascina Parco Gallo nell'animazione del parco in quanto territorio della città. L'obiettivo fondamentale è quello di ridare vita al parco, ridare vita alla città attraverso una serie di appuntamenti che chiamino a raccolta i cittadini migliori, i cittadini che vivono il territorio e che li portano ad esprimere il meglio di loro con le loro proposte rispondendo a quelli che sono i loro bisogni. La riappropriazione degli spazi pubblici è quello che è l'obiettivo fondamentale. Noi riteniamo che si possa partire da questo parco per dare un significato di presenza in tutta la città, su tutto il territorio, specialmente valorizzando quelle che sono le presenze pubbliche.